Avere una funzionalità renale normale permette una vita normale. I reni sono molto importanti per il nostro organismo e hanno diverse funzioni vitali. Infatti senza i reni che funzionano normalmente non è possibile vivere. Vengono classificate più o meno 10 funzioni, le più note che sono quelle di formare l'urina e di poter quindi controllare il metabolismo dei sali come il sodio, il potassio e i metaboliti come il calcio, il fosforo e poi le funzioni cosiddette endocrine perché i reni hanno proprio una funzione come se fossero una ghiandola endocrina e quindi produrre ormoni come l'eritropoietina, regolare la sintesi della vitamina D, quindi attivare la vitamina D e controllare una funzione molto importante, la pressione arteriosa, attraverso la produzione di un ormone che si chiama renina, che prende proprio il nome dal rene, attraverso un sistema ormonale molto complesso e molto importante per il nostro organismo. Quindi sono due organi, il rene destro e il rene sinistro, ma in realtà dobbiamo pensare un unico organo, un unico tessuto che svolgendo queste funzioni rimangono appunto vitali.